E al quinto mercato della terra della biodiversità a San Giorgio Canavese non poteva mancare peperoni di Carmagnola. Eccoci qua. Siamo un'azienda di Carmagnola, coltiviamo ovviamente peperoni da 40 anni. In questo momento i peperoni li stiamo giusto trapiantando adesso sotto serra e siamo venuti qui a questa manifestazione che ormai è il quinto o il sesto anno che veniamo. Abbiamo portato le nostre fragole, i nostri asparagi e niente. Noi iniziamo la stagione, abbiamo un punto vendita a Carmagnola che è il sito all'uscita dell'autostrada Torino-Savona dove iniziamo a lavorare a marzo, andiamo dietro alla natura, nel senso che iniziamo con le verdure invernali, i porri, i costi, le insalate, poi proseguiamo con gli asparagi e andiamo avanti così fino a Natale. Natale poi finiamo con i cavoli, di nuovo con i porri. Quindi esclusivamente prodotti stagionali? Sì, abbiamo solo prodotti stagionali di nostra produzione e badiamo molto a lavorare bene. Siamo il consorzio del peperone Carmagnola e Presidio Slow Food, per cui Presidio Slow Food è con il peperone corno di bue. Noi siamo ovviamente soci, mia moglie è la titolare dell'azienda. Quindi venite qui a San Giorgio Canavese oggi, non ci sono i peperoni, giustamente come ha detto il signore, però ci sono delle bellissime fragole e asparagi, vi aspettiamo. Grazie.